Non siamo fantasmi, è questo lo slogan scelto dal settore della moda di confcommercio, comparto che sta vivendo un periodo di grande crisi ed adesso così i commercianti di calzature ed abbigliamento reclamano visibilità e tutela. La crisi si fa ogni giorno più grave, ma i decreti che si susseguono non fanno menzione di noi, spiega il presidente di Federmoda Confcommercio Arezzo, Paolo Mantovani. Siamo tra i grandi dimenticati di questo periodo, per noi niente ristori, ma le vendite sono crollate sino all'80% rispetto all'anno scorso. Di questo passo, solo in provincia di Arezzo, sono a rischio chiusura entro l'anno almeno 200 negozi degli oltre 800 esistenti, che nel complesso danno lavoro a 2000 persone. Hanno interrotto le cerimonie, prosegue, ma nulla è stato previsto per sostenere i negozianti specializzati nelle vendite di capi eleganti. Hanno sospeso molte attività sportive, ma i negozi di abbigliamento sportivo per ora non hanno alcun diritto ad un risarcimento. Più in generale, il venir meno delle occasioni sociali, poi la ripresa forte dello smart working ed infine l'ipotesi di nuovi lockdown, hanno praticamente paralizzato le vendite. Anche la mancanza di turisti, soprattutto quelli dell'estero, ha giocato pesantemente a nostro sfavore. Ecco perché sono urgenti misure di sostegno, conclude il presidente provinciale di categoria. Tra le richieste della Confederazione al Governo, quindi, contributi a fondo perduto, liquidità delle banche, credito d'imposta per gli affitti, condono tombale sui versamenti tributari e contributivi, detassazione e rottamazione dei magazzini, sospensione di mutui e leasing bancari e prosecuzione della cassa integrazione fino a tutto il 2021.